da benvenuti amici appassionati oggi abbiamo fatto un po cagare la tagliamo i due maschioni della diciannove della cazzo della diciottesima edizione della conosco leggermente chi siamo la niente che potremmo fare cose accontentiamoci di quello che ci abbiamo ok più indietro vai a posto io stavo fanno cose che se vuoi fare a posto ci vediamo per la diciannove esime edizione della conosco da giare milo ciao